Elena Damario e Massimiliano Cagliazzo stanno insieme? I fan sono pronti a giurare che i due siano fidanzati, ma è vero? Elena Damario e Massimiliano Cagliazzo stanno insieme? Secondo alcune indiscrezioni la ballerina avrebbe scelto proprio l'attore di Mare Fuori come suo nuovo fidanzato, ma è tutto vero? Leggi anche, Michel Luntziker, l'ex marito Tommaso Trussardi corteggiato da alcune colleghe famose della conduttrice, ecco di chi si tratta Elena Damario e Massimiliano Cagliazzo stanno insieme? No, non ci sono foto che ritraggono Elena Damario e Massimiliano Cagliazzo insieme, ma i fan dei due noti personaggi sono pronti a giurare che i due siano fidanzati Gli inizi sulla loro frequentazione arriverebbero dal social, da qualche settimana, infatti, nelle rispettive stories di Instagram si avvisterebbero luoghi e contenuti molto simili Che si tratti di coincidenze? Gli indizi Il noto portale UOPS è e riporta che Elena Damario e Massimiliano Cagliazzo hanno postato entrambi la stessa canzone su Instagram Stiamo parlando del brano di Aquanari dal titolo Poetry, How does it feel? Questo brano sarebbe stato messo online dalla ballerina e dall'attore nello stesso orario e non è la prima volta che fra loro si percepisce uno scambio di dediche simili Nei giorni scorsi, infatti, Elena e Massimiliano hanno scelto come canzone rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni Non solo le canzoni, comunque, sono le stesse, ma anche gli smile e le emoji usate dalla Damario e Cagliazzo, i due presunti fidanzati hanno usato nelle loro storie un drago Anche qui si tratta di coincidenza? Chissà! A giudicare dai like che si scambiano sul social, comunque, è chiaro che i due provino attrazione l'uno per l'altra Chi è il nuovo fidanzato della ballerina? Massimiliano Cagliazzo è uno dei protagonisti di Mare fuori, la serie che sta avendo enorme successo su Netflix Il presunto nuovo fidanzato di Elena Damario e Antoine Napoli il 28 agosto del 1996 e oggi ha 26 anni Lo abbiamo visto in, Furore Sorrentumi il simposio di Platone mentre aspettiamo che Elena e Massimiliano ufficializzino, la loro relazione, seguici su Instagram cliccando qui E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video